penna e spada una spada se ne stava nell'angolo di una stanza la superficie lucente della lama d'acciaio toccata dal raggio del sole brillava ad un bagliore rossastro con fierezza la spada si guardò intorno vide che tutto si piaceva del suo splendore tutto? eppure no, là sul tavolo appoggiata imperiosa a un calamaio c'era una penna a cui non passava neanche per la mente di inchinarsi davanti alla maestà scintillante di quell'arma la spada si indispettì e cominciò dunque a parlare ma chi sei tu, spregevole cosa per non inchinarti come gli altri piena d'ammirazione dinnanzi al mio fulgore guardati attorno tutti gli oggetti deferenti rimangono avvolti nella profonda oscurità soltanto me, me il chiaro sole ristoratore ha scelto come sua favorita mi rianima con le fiamme del suo bacio voluttuoso e io lo ripago irradiando mille volte la sua luce se dice solo ai principi potenti incedere in vesti festose il sole conosce il mio potere per questo mi posa sulle spalle la porpora regale dei suoi raggi sorridendo replicò la giudiziosa penna ma guarda un po' come sei vanitosa e superba e come ti pavonezzi d'uno splendore riflesso non siamo forse entrambe ragiona parenti assai stretti ci ha partorito entrambe la terra premurosa forse entrambe nello stato primigenio ci siamo trovate l'una accanto all'altra nella stessa montagna per millenni fino a quando lo zelo operoso dell'uomo scoprì la vena dell'utile metallo ci portarono via entrambe entrambe figli ancora informi della natura grezza eravamo destinati a venire trasformate inutili membra dell'attività umana sopra il calore della fucina fumante sotto i colpi vigorosi del maglio e così accadde tu divenisti spada a te fu data una punta grossa e robusta a me penna ne fu fornita una sottile e delicata per agire e fare veramente qualcosa dobbiamo prima bagnare le nostre punte tu nel sangue a me basta l'inchiostro questo discorso tenuto in stile d'otto riprese ora la spada mi fa davvero ridere è proprio come se il topo piccola infima bestiola volesse dimostrare una stretta parentela con l'elefante parlerebbe allora come te perché anche lui al pari dell'elefante ha quattro zampe e perfino un grugno di cui vantarsi si potrebbe dunque pensare che siamo almeno cucini cara penna con calcolo assai astuto tu hai ora nominato solo ciò in cui ti assomiglio voglio però dirti cosa ci distingue io che era spada scintillante sono cinta al fianco da un audace nobile cavaliere mentre tu un vecchio scribacchino ti mette dietro il suo lungo orecchio d'asino il mio signore mi brandisce con mano energica e mi porta tra le file dei nemici sono io a condurvelo è invece il tuo maestro ottima penna a condurre te con mano tremante su una pergamena ingiallita io infurio terribile tra i nemici balzo coraggiosa e temeraria ora qui e ora là continui a scarabocchiare in perenne monotonia nella tua pergamena e non osi allontanarti neanche un po' dalla via segnata con prudenza dalla mano che ti guida e infine infine quando la mia forza si esaurisce e divento vecchia e debole allora sono onorata come conviene agli eroi messa in mostra nella sala degli antenati e ammirata ma a te cosa accade se il tuo signore non è soddisfatto di te se ti fai vecchia e incomincia a tracinarti sulla carta con tratto grossolano ti afferra ti strappa all'asta che ti era di sostegno e ti datta via quando non ti fa grazia di venderti a un ricattiere insieme a qualche tua sorella per pochi centesimi per un certo verso prosegui molto serio la penna potresti non aver poi tanto torto è vero che spesso non mi si tiene in gran conto e che una volta divenuta inservibile vengo trattata assai male ma proprio per questo il potere di cui dispongo finché posso lavorare non è affatto da poco non resta che fare una scommessa vorresti proporre a me una scommessa risa insolente la spada purché ti arrischi ad accettarla e come se l'accetto cosa scommettiamo la penna si tirò su assunse un contegno rigido e grave e cominciò commettiamo che se voglio son capace di impedirti di andare al tuo lavoro in battaglia suona proprio audace siamo d'accordo accetto bene disse la penna stiamo a vedere erano passati pochi minuti dalla conclusione della scommessa quando fece ingresso un giovane in una preziosa cotta d'arme e afferrata la spada l'allacciò al fianco quindi contemplò compiaciuto la lama folgorante fuori risuonavano squilli di tromba rulli di tamburo si andava in battaglia il giovane stava per abbandonare la stanza quando entrò un uomo che a giudicare dai ricchi fregi doveva occupare un'alta posizione il giovane gli fece un inchino profondo il dignitario si era frattanto avvicinato al tavolo aveva preso la penna e scritto in fretta qualcosa il trattato di pace è già firmato disse sorridendo il giovane ripose la spada nell'angolo ed entrambi lasciarono la stanza ma sul tavolo era posata la penna il raggio di sole giocava con lei e il metallo inumidito riluceva splendente non ti appresti alla battaglia mia cara spada chiese sorridendo ma la spada rimase silenziosa nell'angolo buio credo che abbia smesso di darsi arie